Musica Venerdì 31 marzo, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. Torna nell'aula del Consiglio regionale la proposta di legge istitutiva dell'Egam, lente per la gestione delle risorse idriche molisane. Dopo la battuta d'arresto del centro-sinistra sulla istituzione del direttore generale dell'ente, fratture oggi alla resa dei conti. L'intera proposta di legge potrebbe naufragare sotto i colpi di una maggioranza trasversale che va dal Movimento 5 Stelle all'intero centro-destra sino ai dissidenti del Partito Democratico. All'orizzonte una crisi politica dagli esiti imprevedibili. Sentiamo Pasquale Di Bello. Torna nell'aula del Consiglio regionale la proposta di legge istitutiva dell'Egam, lente per la gestione delle risorse idriche molisane. Dopo la battuta d'arresto del centro-sinistra nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale, frattura, conta, amici e nemici. Il presidente della regione e quella che appare sempre di più la sua ex maggioranza sono oggi alla resa dei conti. L'intera proposta di legge potrebbe naufragare sotto i colpi di una maggioranza trasversale che va dal Movimento 5 Stelle all'intero centro-destra sino ai dissidenti del Partito Democratico. Si tratterebbe dello stesso fronte che due settimane fa ha bocciato l'istituzione del direttore generale dell'ente una figura che sarebbe costata alle tasche dei molisani la bellezza di 170.000 euro all'anno, tutto compreso. Che questo scialacquio di risorse pubbliche rappresentasse un orrore è parso chiaro subito a tutti, tranne che ai soliti samurai disposti a dare la vita pur di difendere l'imperatore frattura. A mettere sotto scacco il governatore sono stati la scorsa volta i voti dei consiglieri Niro, Totaro, Lattanzio, Scarabbeo e Petraroia, tutti in uscita dal centro-sinistra che si sono sommati a quelli dell'intero centro-destra e dei grillini. Lo schema potrebbe ripetersi, aprendo così il fronte di una crisi politica dagli esiti imprevedibili. Legam è una delle tante scommesse ardite volute da Paolo Di Laura Frattura, una scelta che è stata già bocciata dal Tribunale Amministrativo Regionale che ha contestato e censurato a Frattura la procedura di costituzione dell'ente di pertinenza del Consiglio Regionale, secondo i magistrati amministrativi e non dell'Aggiunta Regionale, così come aveva inteso Frattura. Sullo sfondo della vicenda il surreale dibattito relativo all'acqua pubblica, un bene comune che tutti a parole intendono difendere e che poi nei fatti diviene sistematicamente oggetto di un odioso tira in molla. Non basta dire che l'acqua è pubblica, obiettano gli oppositori di Frattura, ma la sua stessa gestione deve rimanere in mani pubbliche. Se il bene lo resta, ma la gestione delle reti finisce in mani private, allora il problema e il rischio permangono. Il privato, per mille ragioni, tra cui la prima e quella economica, potrebbe chiudere i rubinetti da un momento all'altro, lasciando tutti nell'alternativa tra la bocca asciutta e le tasche vuote. E si parlerà di EGAM questa sera nella trasmissione Moby Dick in diretta a partire dalle 21 su Tele Molise. Ospiti di Giovanni Minicozzi saranno Massimo Pillarella, dirigente regionale commissario di Molise Acqua, il sindaco di Campobasso Antonio Battista, il sindaco di Campodipietra Peppe Notar Tomaso, Massimo Romano, avvocato e fondatore del Movimento Coscienza Civica, Marcella Stumpo del Forum per l'Acqua Pubblica e Nicola Lanza del Movimento Prima le Persone. Sono previsti anche gli interventi esterni dell'assessore regionale Pierpaolo Nagni e del consigliere regionale Francesco Totaro. Come sempre i telespettatori potranno intervenire telefonicamente nella fascia oraria prestabilita durante la trasmissione. E adesso la cronaca con la notizia dell'arresto dei due aggressori che una quindicina di giorni fa hanno accoltellato un ragazzo in pieno centro a Campobasso a loro carico. L'accusa ipotizzata è rapina aggravata e lesioni gravi. Sentiamo Giovanni Di Tota. Lo avevano inseguito per i vicoli del Borgo Vecchio e per le strade del centro. Dopo averlo accoltellato a una mano la lama era passata da parte a parte e forse Alessandro aveva tentato di difendersi, i due assalitori non avevano desistito ma la vittima era riuscita a seminarli. Secondo la ricostruzione della questura l'aggressione che si è verificata un paio di settimane fa in Piazza Pepe a Campobasso durante la notte avrebbe potuto avere un esito analogo a quello di Alatri. Tutto era nato per un drink, almeno questo era parso di capire all'inizio dell'accaduto. Ma poi le indagini della squadra volante e della polizia hanno messo in fila i tasselli di un mosaico diverso. Due balordi di 25 e 24 anni, entrambi di Campobasso e tutti e due facce note negli archivi della questura, avrebbero agito a scopo di rapina. Il più grande dei due, alla reazione della vittima, è estratto un coltellaccio da cucina e incitato dal suo compagno ha tirato un fendente che il ragazzo aggredito ha parato con una mano. Poi l'inseguimento da via Ferrari fino a Villa Flora. Alla scena, nonostante l'ora tarda, avevano assistito alcuni testimoni che hanno avvisato la polizia e proprio in Villa Flora, quando i due delinquenti avrebbero potuto raggiungere il ragazzo in fuga, è arrivata una pattuglia della volante. Messo insieme il racconto del ragazzo e quello dei testimoni, gli investigatori hanno chiuso il cerchio intorno ai due. Il più grande, che ha usato il coltello, è stato portato nel carcere di via Cavour con l'accusa di rapina aggravata dall'uso delle armi e lesioni personali. Il 24enne ha ottenuto i domiciliari e per lui l'accusa è di concorso in rapina. Il giovane accoltellato se l'è cavata con una mano squarciata, ma secondo gli investigatori se i due l'avessero raggiunto, l'epilogo sarebbe potuto essere ancora più grave. La Valle dell'Eco, e questo è il titolo del film in onda su Telemolise, domani dalle 21 storie di vita quotidiana di amicizia d'amore, di sconfitta e di rinascita in un quartiere periferico di una città come tante. Il film è sceneggiato da Flavio Brunetti e da questi diretto insieme al regista William Mussini e tratto dai racconti di una ragazza del quartiere San Giovanni dei Gelsi a Campobasso. La proiezione è in prima nazionale su Telemolise. L'epilogo della trama strettamente legato alla passione di Gesù è sottolineato dalla magistrale originale interpretazione al violoncello del Teco Vorrei, eseguita da Ilario Fantone, prezioso e giovanissimo musicista campobassano. Il film, presentato da Antonio D'Ambrosio, andrà in replica nei giorni di martedì 4 aprile alle 16.30 e mercoledì 5 alle 21.00. Prende il via oggi a Roma il V Congresso Internazionale di Medicina Biointegrata. Per tre giorni fino a domenica oltre 40 relatori si confronteranno sul tema il ruolo dell'evidenza e la centralità del paziente. L'evento è organizzato dall'IMEB e dalla Società Italiana di Medicina Biointegrata, di cui è presidente il molisano Franco Mastrodonato, medico e docente, tra i massimi esperti della disciplina. È tutto per la nostra informazione. Adesso la rassegna stampa. Con Nicola Passarelli in regia vediamo come titola il giornale del Molise.it. San Martino blitz della finanza in comune, sequestrati gli atti sui fondi del terremoto, almeno otto gli indagati. C'è anche l'assessore regionale Vittorino Facciolla. Isernia, migranti violenti, Salvini all'attacco, la preoccupazione dei sindaci, poi Medicina Biointegrata a Roma, il congresso internazionale, paziente al primo posto. Sesto Campano, false residenze per truffare le assicurazioni, denunciate 20 persone. Campobasso, la cattolica attiva lo sportello della solidarietà nella Casa degli Angeli e poi organismo congressuale Forense a Campobasso, avvocati a confronto. PSR Molise 2014-2020, per i consiglieri regionali di centrodestra ci sono luci opache su obiettività e neutralità. Ci sono poi le altre notizie sul giornale del Molise.it dalla regione ma anche dall'Italia. Poi ci sono editoriali, idee e opinioni. Patriciello scarica frattura o fa finta, firma di Pasquale Di Bello. Vi ricordiamo che c'è anche la rubrica L'Avvocato in Forma, a cura dell'Avvocato Francesco Finmano, professore ordinario di diritto commerciale all'Università degli Studi del Molise. Il contributo della rubrica è lo Stato si riprenda il governo del credito e lo metta al servizio dell'economia dei territori. Vediamo adesso come titola Primo Piano Molise, fondi post-sisma, indagato l'assessore Vittorino Facciolla. L'accusa della procura di Larino è di truffa ai danni dello Stato e abuso d'ufficio. L'inchiesta sul vicepresidente della regione coinvolge pure la giunta Caravatta e due funzionari. Ieri mattina il blitz della Guardia di Finanza in municipio a San Martino in Pensilis, sequestrata la documentazione. In taglio alto, accoltellato in via Ferrari, arrestati gli aggressori, gli agenti della questura di Campobasso hanno chiuso il cerchio la notte del 12 marzo. I due giovani pregiudicati hanno tentato di rapinare un loro coetaneo, per entrambi sono scattate le manette. Poi Isernia rissa al centro di accoglienza, migrante si sente male in carcere, vogliono uccidermi, dice. E poi lutto a San Massimo, l'addio a Giovanni. Il prete ha detto non lasciamoci travolgere dalla rabbia. Campobasso finito il ricovero, non vuole tornare in cella, detenuto da Di Matto. Trasferito dal CSM, il procuratore Dalterio saluta Campobasso a giugno, sarà a Potenza. Palazzo da Immo, spese pazze al gruppo, bizzarro assolto perché il fatto non costituisce reato. La Lorenzin bacchetta il Molise, peggiora la qualità delle cure. La ministra fa il punto in un'intervista e annuncia novità per i commissariamenti. Frattura, scontiamo la carenza di personale, con le assunzioni invertiremo la rotta, così dice il governatore. Poi Isernia, dializzato con emorragia cerebrale, rifiutato da tutti gli ospedali pubblici e privati. Termoli, i lavoratori dello zuccherificio, minacciano le barricate. Riapriremo il presidio. Incontro con Perrucci, Battista, gli imprenditori. Il momento è complicato, il sindaco non chiude però ai lupi. Qualcosa c'è e si parla di sport, calcio serie D. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, resa dei conti vicina per Macchia e Vasto Girardi. Domani lo scontro che decide il torneo. E per la pallacanestro, serata nera per Venafro e Isernia, che tornano senza punti dalle due trasferte. Passiamo adesso a vedere il quotidiano del Molise come titola. Post-sisma, i piani alti, si trema. Sotto la lente della Guardia di Finanza la presunta illegittimità di una sanatoria. San Martino in Pensilis acquisita documentazione e notificati otto avvisi di garanzia a carico di funzionari ed ex giunta. Poi accoltellamento nella Movida Campobassana. La polizia arresta i due giovani responsabili. Aggressioni agli agenti penitenziari. La denuncia Campobasso. Il SAP, il sindacato, insorge. E poi sottovoce riporto, a firma di Tonino De Cesare e Isernia. Migranti dopo la rissa, la città ha paura. Sesto campano, residenze fittizie per truffare assicurazioni. Campobasso presentata la carta d'identità elettronica. Sanità Lorenzin, Lea, Molise nel 2015 sotto gli standard ministeriali. Intanto il Kodakons annuncia un ricorso. Per quanto riguarda le notizie di sport, serie di calcio. Campobasso secondo soltanto alla fermana nell'era Silva. Eccellenza Pietra, mister Torre sollevato dall'incarico. Ecco Papa in panchina, la bandiera rosso-nera. Vediamo adesso la nuova gazzetta molisana che titola così. Sanità Lorenzin, Bacchetta, anche il Molise. Conti che tornano verso l'attivo ma livelli di assistenza sotto la soglia minima e resta in piedi la travagliata questione dei licenziamenti alla segreteria screening oncologici. E poi c'è l'editoriale a firma di Giuseppe Saluppo, dal titolo un piano Marshall per il Molise. Peu di San Martino in Pensilis, otto gli avvisi di garanzia. L'Oscar, la nuova gazzetta molisana, lo assegna al sindaco di Civitacampo Marano Paolo Manuele, mentre il Tapiro al consigliere comunale di Campobasso Francesco Pilone. Vediamo adesso come titola futuro Molise. Il ministro della salute Lorenzin smentisce frattura e il tutto va bene in sanità. Nel Molise, dopo i tagli, non sono garantiti i livelli essenziali di assistenza. La Isernia la quiete dopo la tempesta, ma attenzione a non sminuire i fatti, i gravi fatti accaduti in città dopo la rissa tra migranti. E poi Izzo e Lanza invitiamo tutti i cittadini molisani dinanzi al Consiglio regionale per affermare il principio acqua bene comune. Oggi il Consiglio regionale sull'Egam e poi approvata in via definitiva la legge sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati. Petraroia e il Molise prosegua il suo impegno umanitario. Ci sono poi le altre notizie su futuro Molise. I quotidiani nazionali adesso partiamo con la Repubblica. Trump, la sfida dei dazi ai marchi simbolo europei. Rischiano Vespa e San Pellegrino. Gentiloni dice la qualità non ha frontiere. E poi le storie rallentatore. Un viaggio a piedi in otto pagine. La voglia di ricominciare dopo il terremoto. Da Amatrice a Camerino il canto del ritorno di chi vive sulla faglia. L'articolo a firma di Paolo Rumiz. E poi voto alla Camera mai più PM. Lo stop ai magistrati in Parlamento. La minaccia della Jihad. Terrorismo arrestati quattro kosovari a Venezia. Metti una bomba sul ponte di Rialto e guadagni il paradiso. Virgolettato la frase che viene riportata da Repubblica. Vediamo adesso il Corriere della Sera. Anche qui c'è questa notizia dall'estero, dagli Stati Uniti. L'Italia contro i dazzi di Trump. Gli USA pronti a penalizzare i prodotti stranieri. Gentiloni dice un errore. Dai formaggi agli scooter. I settori a rischio dogana. Anche Facebook critica il protezionismo. E c'è il caso. Golpe. Decisione dei giudici per oltraggio al successore di Chavez. Sostenitori del presidente Maduro protestano a Caracas contro l'organizzazione degli stati americani davanti a un murales di Chavez. Poi camera. Sospesi 42. Deputati dei 5 Stelle protesta in piazza dopo l'assedio in aula sui vitalizi. Passiamo adesso a vedere la stampa di Torino come titola. La sfida dei dazzi accende il duello tra Europa e Stati Uniti. Trump potrebbe imporli anche sui prodotti italiani. Gentiloni dice sarebbe un errore. Torna il contenzioso sulla carne. Poi i soldi mai spesi per l'amianto. Inchiesta solo il 6,5% dei fondi disponibili viene sfruttato e le bonifiche sono poche. E c'è questa foto. Recupero delle lastre di Eternit abbandonate nell'area ex Italsider a Napoli. Passiamo adesso a vedere Libero. Per un furto in casa la pena è 46 ore. Il trionfo dei criminali, scrive Libero, in Italia svaliggiate 200.000 proprietà l'anno. Nel 97% dei casi il colpevole resta impunito. Per il rimanente 3% le condanne sono minime. E un rapinatore la fa franca 32 volte su 33. Poi le giornate ecologiche fermano i carri funebri con l'Appendino invietato morire di domenica. E c'è la foto del sindaco di Torino. L'Appendino. Da Libero passiamo a vedere il fatto quotidiano. Madia Furbetta deve dimettersi. L'Appello. Zagrebelski, Setti, Surbinati, Carlassare, De Monticelli, Montanari e altri. Libertà e giustizia oltre a 5 stelle. E sì contro la ministra per i plaggi nella tesi di dottorato. Il ricatto dell'Eni, miliardi solo se state zitti sull'inquinamento. Nella Val d'Agri le accuse ai serbatoi del cane a sei zampe. Sono bucati il virgolettato. Così il fatto quotidiano. Vediamo adesso il tempo. I grillini bloccano anche la ruota. Il simbolo del divertimento romano fermo per cavilli burocratici. Dure accuse tra Luna Park dell'Eure e il municipio a 5 stelle. Alatri, Emanuele colpito alla testa, altri due indagati. L'autopsia e intanto si attiva il CSM. Così il tempo. Adesso vediamo avvenire il quotidiano dei Vescovi. Muro alle merci dell'Unione Europea. Trump prepara i dazzi su prodotti anche italiani. Il cardinale Turkson speriamo ripensi tante scelte. Nel mirino la Vespa, le acque minerali, il nodo dell'import di carne con ormoni dagli Stati Uniti. Gentiloni dice niente barriere alla qualità. Poi in famiglia dare, perdonare e rispettarsi l'invito del Papa per il raduno mondiale. Il mattino di Napoli. Trump scatena la guerra dei dazzi. Anche qui questa notizia. E poi profughi militari libici addestrati a Campomiseno. Parte il piano della Marina per arginare gli sbarchi. Venezia, scovata una cellula jihadista di Kosovari, volevano colpire il ponte di Rialto. E poi De Luca la gaffe, la trappola dei fuori onda. Il questore smentisce il racconto sui giudizi su De Magistris. Vediamo adesso come titola il messaggero. Trump dichiara guerra alla Vespa. E poi ancora Roma. Allarme debito senza interventi. L'IRPEF. Ai massimi per 30 anni. La commissaria scozzese dice in comune passivi per 12 miliardi ancora ignoti. Molti creditori. Vediamo adesso il manifesto. Vespaio è il titolo contro il bando UE sulla carne e agli ormoni. La minaccia di Dazi al 100% su alcuni prodotti europei. La mossa dopo la caduta sull'Obamacare. Lo scontro con i repubblicani. Poi pensioni da fame per oltre 11 milioni. A 6 pensionati su 10 un assegno medio di 750 euro al mese. Le donne più penalizzate. Jobs Act. L'eredità di Renzi. Boom precari al lavoro. Gli over 50. Vediamo adesso la verità come titola. Stangata su disabili e allergici. La nuova sanità paga l'eterologa ma protestano le associazioni. Dei diversamente abili. Più costi che risparmi. Per le persone con sindrome di Down. Un salto indietro di 50 anni. E chi soffre di intolleranze per fare i test dovrà andare dallo specialista. Poi la panzana dei Dazi al 100% imposti da Trump sul Made in Italy. E ancora noi li accogliamo. Loro fanno saltare rialto. Scrive ancora la verità. A Venezia sventato attacco di islamici con permesso di soggiorno. Le ONG continuano a portarne. Vediamo adesso il sole 24 ore. Un muro usa per 90 prodotti UE. Nelle mirine il 13% del food italiano. Esportato e beni simbolo come la Vespa. Trump minaccia Dazi del 100%. Come rappresaglia commerciale nella lunga disputa sulla carne usa agli ormoni. e poi Banche Venete. L'Unione Europea stringe sugli aiuti. Oggi doppio consiglio in discussione. Nuovi bond a garanzia statale. La Commissione promette tempi rapidi per il risponso sui fondi pubblici per il salvataggio. Il secolo, c'è questa foto di Silvio Berlusconi, ancora in campo. Poi Gasparri, Plaude, Orban, fermiamo l'immigrazione. Bucci punta su Genova, io un sindaco operaio. I cinesi scelgono Roma, Italia, turisti in aumento. Dal secolo d'Italia, la Gazzetta dello Sport. Higuain, il figlio al prodigio. È il titolo. Domenica, super sfida. Pipita, meno due, il ritorno. Il momento si avvicina. La Juve capolista è di scena al San Paolo. Ma i riflettori sono tutti sull'argentino. Napoli non ha dimenticato. Fischiera per amore. Non doveva andare via, dicono a Napoli. Allegri con i dubbi di Bala e Mandzukic. Poi Serie A, la resa dei conti. Ricavi, Suma, sale anche il debito. In Lega i club sanno solo litigare. Crescono gli stipendi. Passivo a quota 1,9 miliardi. Juve e Torino, esempi virtuosi. Dal torneo 2026, mondiale per 48, con il playoff a 6. All'Africa a 9 posti. L'Asia ne avrà 8. Le proposte FIFA ora ufficiali. Europa da 13 a 16 nazionali per i mondiali. Poi ci sono le altre notizie della Gazzetta dello Sport. E con la Gazzetta dello Sport termina la nostra rassegna stampa. Prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise. Come sempre in diretta alle 14 con il telegiornale. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.